ciao bentornati in questo nuovo video bentornati sul mio canale oggi parliamo di un coltello un po particolare prima del coltello vorrei parlarvi del suo creatore di chi ha inventato quella forma e perché ha inventato quella forma ma prima ovviamente di parlare del suo creatore del suo ideatore parliamo del soggetto in questione il soggetto è 0 tolerance z t 5 60 quindi avrete capito benissimo che parliamo di rick hinderer che che ha ideato alcuni coltelli della 0 tolerance tra cui appunto lo z t 5 60 lo z t 5 62 slicer o slicer se volete dirla l'italiana e lo z t tolerance 0 5 66 e 0 5 62 ne ha ideati praticamente parecchi non è l'unica collaborazione che indera ha fatto con altre aziende di coltelli una fra tutte con la cabar ovviamente adesso vediamo in successione una serie di coltelli che proprio indera costruisce e produce di sua nella sua azienda che lui stesso ha fondato c'è da dire come potete vedere che questi modelli sono abbastanza simili uguali ai 0 tolerance che abbiamo appena citato questo perché proprio come è stato fatto da denko con la colstil anche rick hinderer ha ceduto alcuni suoi progetti per poterli riprodurre in forma industriale ma una forma industriale con delle regole ben dettate da hinderer infatti per questi progetti aveva scelto la collaborazione con la zero tolerance e come ben sapete nasce per produrre coltelli chiudibili tattici e coltelli chiudibili per emergenze robusti per pronto intervento la stessa cosa che fa indera ma perché indera fa questa cosa come nasce questa idea il kinder intanto iniziamo a capire che dopo il suo breve periodo nell'esercito torna alla vita civile e poi si fa addestramento e si arruola in quelli che chiam possiamo chiamare vigili del fuoco per grandi emergenze o anche per emergenze particolari quindi più un vigile del fuoco non ha detto allo spegnimento degli incendi ma per il soccorso e l'aiuto per la vita umana in pericolo questo fa indera nella vita in quel periodo lui nei primi anni 80 inizia a costruire coltelli artistici da collezione perché è una cosa che lo soddisfa che li prendeva la fantasia inizia a produrre questi coltelli in un pollaio per tacchini senza acqua senza luce senza riscaldamento di una cubatura di 14 per 18 metri e lui li inizia a costruire questi coltelli per divertimento per relax sino che nel frattempo fa appunto gli esami per poter entrare nelle squadre di soccorso anche subacque e di soccorso a tutto campo dei vigili del fuoco viene accettato passa l'addestramento pasta agli esami viene accettato e inizia a lavorare con tutta una serie di soccorritori civili ma anche con una serie di forze di polizia perché gente che vuole suicidarsi gente che si è messa in pericolo gente che è stata messa in pericolo per cui interviene anche la polizia eccetera se qui un po tutti quelli che lo conoscono anche sanno che lui così a livello hobbistico produce questi coltelli gli chiedono consigli per avere dei coltelli dei folder i coltelli chiudibili da portarsi da poter utilizzare nelle emergenze perché molte sono le cose che possono essere utili e con durante un'emergenza da poter fare con un coltello a parte tagliare la solita cintura di sicurezza o tagliare delle guarnizioni tagliare dei tubi tagliare dei legacci aprire delle scatole tagliare delle confezioni per le garde di emergenza c'è tutta una serie tagliare dei vestiti tutta una serie di cose che è vero che si possono fare con altri strumenti ma per i quali bisogna portarsi dietro più di uno strumento invece così con un unico coltello magari robusto si poteva un po superire a tutte queste esigenze quindi indire spinto da queste da queste richieste inizia a studiare a pensare delle forme che possono funzionare durante tutto ciò ovviamente alcuni amici poi colleghi delle forze dell'ordine iniziano stimolarlo perché anche loro ne avrebbero bisogno durante i loro servizi e via e via gli amici militari eccetera 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 quindi indera studia e progetta e utilizza delle forme fino a che era fuori alcune forme caratteristiche tra queste forme caratteristiche troviamo appunto la forma che noi ritroviamo ma nello 0 tolerance 5 60 indare poi ovviamente si ingrandisce crea una vera e propria azienda e si dedica alla costruzione e la produzione di coltelli coltelli fatti in questa maniera piuttosto anche cari se vogliamo perché si parte dei 450 dollari in su per ogni suo pezzo prevalentemente sono coltelli folder coltelli curibili ma inizia a costruire anche qualche coltello fisso sappiate anche che indera la sua azienda ha istituito un percorso di addestramento sia per la sopravvivenza che per l'utilizzo delle armi e come istruttore ha scelto un ex veterano del vietnam nonché capitano delle forze di pulizia in pensione video non era preparato perché stavo pensando di fare un video e poi mi è venuto in mente del perché non raccontarvi la storia di uno degli artigiani e dei produttori adesso di coltelli tra i più conosciuti in questo momento negli stati uniti d'america ma ora parliamo del coltello in questione vediamo nelle caratteristiche tecniche abbiamo una lama di 98 mm quindi 9 centimetri virgola 8 dello spessore di 4 mm a livello dove la spina dorsale come si dice della spain o comunque del dorso del coltello anche se della verità lo spessore massimo lo troviamo a questo livello essendo un sabre e avendo questo finto contro filo a questa altezza qua la lunghezza totale sono 224 mm quindi 22 cm e mezzo grosso modo chiuso misura 127 mm 12 cm il peso è di 168 grammi la lama è in el max el max ovviamente sintetizzato da polveri e sapete tutti che un acciaio tra i più moderni e quelli che hanno una tenuta di filo più lunga è temprato 359 i 61 h rc invece la manicatura è in titanio e g10 ovviamente anche la cartella dove c'è il g10 è in titanio diamo poi la clip in acciaio che può essere posizionata qui qui oppure qui e qui quindi può essere posizionata per qualsiasi sia la modalità in cui volete tenerlo bloccato in tasca ovviamente se anche si può posizionare un utilizzo mancino c'è sempre il discorso del frame loc avendo la chiusura frame loc la sicura scusatemi frame loc una delle caratteristiche invece che poi è stata migliorata nelle modelli successivi come lo slicer che poi vediamo è che mentre qua abbiamo il titanio che appoggia direttamente sulla lama in acciaio nel modelli successivi la zero torna ha visto bene di mettere un piccolo inserto in acciaio vedete qua ci sono le c'è la vite per tenerlo un piccolo inserto in acciaio in maniera che l'attrito sia tra la lama d'acciaio l'insatto in acciaio e nel qualcosa di certo piano piano si consumi può essere sostituito cosa che non è possibile fare in questo caso sebbene che il consumo ci sarà fra vent'anni di utilizzo vediamo subito come si comporta nel taglio puro arriva dalla fabbrica perfettamente affilato vediamolo adesso in azione è un coltello che ovviamente come vi dicevo non teme il lavoro pesante ma la conformazione particolare della lama permette un incisione vedete in questo caso del legno e ovviamente di qualsiasi altro materiale che voi inciderete o taglierete con questo coltello veramente efficace serve pochissima forza la forma della lama la forma del manico permettono una maneggevolezza come pochi altri folder che io abbia provato ovviamente è un coltello che nasce non per l'esclusivo trattamento del legno ma per essere utilizzato in vari campi e in vari settori vedete anche come l'intaglio è preciso e veloce veramente in un attimo si riesce a farla punta anche a un ramo di legno stagionato come questo ed eccoci qua che poi traiamo le conclusioni finali lo vediamo li vediamo appaiati lo slicer con 0 560 e ovviamente lo 0 5 62 allora anche il 562 ovviamente in titanio però vedete che ha la brugolina con attaccato l'inserto in acciaio in titanio e g10 in questo caso arancione dalla parte di acquista una versione limitata e adesso sono entrambe comunque le versioni fuori produzione quindi se li trovate in commercio da qualche parte non li trovate usati e se avete un'occasione acquistate di perché sono sicuramente coltelli di validità sono coltelli che nascono per l'utilizzo in emergenza o l'utilizzo tattico e quindi non hanno paura di essere anche bistrattati quindi non solo per il taglio puro ma sicuramente per anche un taglio più approfondito ovviamente 562 essendo più stretto di manico oltre che di lama nel senso che vedete che la lama più o meno le dimensioni sono uguali però è me a meno altezza questo è più alto questo è meno alto e nel lavoro continuativo senza guanti potrebbe dare un pochino fastidio al palmo della mano qua mentre il 5 60 essendo più bombato da meno fastidio nell'utilizzo dopo sicuramente sono coltelli che con po di guanto non utilizzandoli col guanto andrebbero meglio infatti vedete che anche la forma dell'impugnatura permette un certo ingombro l'apertura in entrambi e su cuscinetti a sfera tra caratteristica che differenzia ovviamente è che il 5 60 ha anche il foro per un eventuale laccetto cosa che vi faccio notare appunto ve li faccio vedere appaiati vedete che più o meno le lame sono simili ovviamente mezzo centimetro più lunga quella del 5 60 e abbiamo anche se lo notate il flipper più pronunciato e con una zigriniatura un gimp proprio per poter essere utilizzato anche con i guanti i guanti che utilizzano ovviamente negli stati uniti come dpi sia le forze dell'ordine sia chi i soccorritori allora prezzo di mercato quando erano col marcio sera circa sui 260 270 euro oggi lo potete trovare se lo trovate dai 300 euro in su perché ovviamente è un modello non più in produzione purtroppo come altri zero tolerance le aperture su entrambi e su cuscinetti a sfera quindi un'apertura molto fluida molto vedete molto rapida su entrambe le versioni ecco spero che questo video vi sia piaciuto in realtà è un video nato così stavo sfogliando alcune cose e mi è venuto in mente che non vi ho mai parlato di indera che è uno dei costruttori di coltelli statunitensi che a me piace molto piace molto per questo tipo di lame come abbiamo visto sia sui suoi coltelli sia su queste versioni prodotte dalla zero tolerance che vedete sembra quasi che la lama cada in avanti poi invece quando voi lo impugnate la lama diventa dritta ed è una caratteristica che lo rende molto comodo nell'utilizzo in qualsiasi maniera voi lo utilizzate ovviamente sono coltelli di una certa qualità e di un certo prezzo per cui non si può parlare che siano alla portata di tutti ditemi la vostra qua nei commenti vi ricordo sempre iscrivetevi al canale mettete il like perché questa è benzina per i nostri motori youtube e soprattutto nei link in descrizione c'è il link per il canale telegram iscrivetevi mi raccomando per un semplice motivo se un domani youtube che adesso farà delle trasformazioni decidesse di censurare alcuni argomenti come appunto possono essere i coltelli oppure nel mio caso la vita dopo la morte decidessi censurare alcuni coltelli ovviamente i contenuti dovranno spostarsi su altri social e su telegram riceverete tutte le notizie i link ed eventualmente anche i video per cui iscrivetevi cortesemente anche lì e vediamo di essere sempre pronti come dei bravi per se qualsiasi cosa succede vi aspetto poi sempre alle dirette la domenica alle 18 mi raccomando iscrivetevi like e ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti da armando ciao